Vedo collegato il destinatario di queste lettere, Vittorio Feltri, eccolo là! Caro direttore, hai sentito Travaglio, eh? Allora, prima lettera, Mirella ti chiede, tra Ucraina e Israele, quale delle due guerre rischia di portarci a un conflitto mondiale, secondo lei? Ma così, a naso quella di Israele, che se si mette anche lei a bombardare l'Iran, cosa che per fortuna non è avvenuta pienamente, allora succederà un patatracco. Chiaro. Ferdinando ti chiede... Mentre Zelensky, scusa, mentre Zelensky, tanto la guerra l'ha già persa, però lui insiste, il poveraccio, comunque prima o poi dovrà cedere. Chiarissimo. Ferdinando ti chiede, direttore, secondo lei che probabilità c'è che qualcuno spari un missile atomico? Ma per il momento direi che non c'è nessuna probabilità, ma se si va avanti di questo passo, come abbiamo visto, può succedere di tutto, perché la guerra mondiale, sì, abbiamo sempre temuta, ma non ci credeva nessuno che potesse accadere. Adesso c'è chi comincia a temerlo e quando si comincia a temere una cosa, di solito poi succede. Ecco, speriamo di no, però sei stato chiarissimo. Allora, Cronos ti chiede, cosa pensa del primo ministro Benjamin Netanyahu? Ma io penso che questo signore abbia perso la testa come tutti quelli che non ce l'hanno, perché secondo me ha avuto ragione quando ha reagito al famoso attacco di Hamas, però poi c'è un limite, invece ha esagerato, continua, e secondo me è un errore. Dopodiché vediamo cosa succederà. Mi domando come mai gli israeliani non abbiano ancora messo alla porta. Capisco che non sia facile, però io di Netanyahu ne farei volentieri a meno. Chiaro anche qua. Prossima lettera. Luca ti chiede, cosa ne pensa della candidatura di Ilaria Salis alle europee? Ricordiamo che Ilaria Salis è in carcere a Budapest. Cosa ne pensi della candidatura con la sinistra ai verdi? Se non fosse una cosa tragica sarebbe comica, perché una signora che è stata condannata quattro volte in Italia per dei reati e che adesso è in Ungheria e ancora deve attendere il processo per aver menato, non si capisce per quale motivo, dei signori che politicamente sono distanti da lei. Adesso poi addirittura questi qui, i verdi eccetera, l'hanno candidata perché desiderano perdere e lei perderà di sicuro e quindi rimarrà in Ungheria dove sarà giudicata. E poi noi italiani possiamo insegnare tutto al mondo meno che l'arte di tenere i penitenziari, che sono i peggiori, tant'è vero che hanno il record dei suicidi e poi non solo, ma diciamo abbiamo il 41 bis che è una forma di tortura permanente. Io credo che assolutamente anche questa signora più lontano sta da noi, meglio stiamo. A onor del vero, è dentro da più di un anno, non è ancora stata condannata, le prove a suo carico sono... Come succede in Italia. Sì, le prove a suo carico sono poca cosa, i capi di imputazione sono pesantissimi, stessi capi di imputazione la gente in altri paesi esce su... Sì, insomma certo in altri paesi, ma non nel nostro. Tant'è vero che per fare un esempio, proprio ieri i giornali riportavano una notizia di un signore che è stato arrestato, messo in galera, ci è rimasto cinque mesi, poi si sono accorti che non aveva fatto niente e l'hanno liberato. Nel frattempo la sua azienda è andata a puttane e quindi queste sono le cose che succedono in Italia, che ti condannano, sì, magari tre o quattro giorni prima che in Ungheria, ma ti condannano anche se sei innocente e dopodiché non ti risarciscono neppure, perché il nostro paese in campo penitenziario ce lo vogliamo dire che fa veramente schifo. Su questo non c'è dubbio e Ilaria Salis sta affrontando un processo più politico che giudiziario. Grazie a tutti.